Marvel vs DC, Marvel vs DC o DC vs Marvel, abbiamo detto, quinta puntata, quinta puntata, in questa puntata vedremo come si vede già dal logo sopra di me e dal titolo qua a fianco, anzi qua, alla vostra destra, che poi è la mia sinistra, Batman e Punisher che si incontrano, Lago di Fuoco, storia del mitico Denison Hill, siamo negli anni 90, quindi 1994 per la precisione, Marvel e DC fanno un doppio albo, un doppio albo, diciamo, speciale, pubblicato uno da Marvel e l'altro da DC, quindi due storie che formano un unico racconto, diciamo che stasera andiamo a leggerci assieme, sì esatto, Yaya stasera si chat, anzi chiacchiera, anzi vi racconto Marvel e DC che si incontrano, in questo caso Batman e il Punitore, che si incontrano a loro modo, ecco diciamo, siamo negli anni 90, Batman, adesso lo vedremo, non era Bruce Wayne all'epoca, quindi il Batman che quasi tutti, diciamo, credo conoscete, non era Bruce Wayne, Bruce Wayne era in sedia a rotelle, perché Bane, che forse avrete visto al cinema dal terzo film di Nolan, il ritorno del Cavaliere Oscuro, Bane, insomma, aveva spezzato la schiena, come nel film, a Bruce Wayne barra Batman, quindi Batman era in sedia a rotelle, sedia a rotelle, e il suo posto era stato preso da Jean-Paul Vallée, o Jean-Paul Vallée, dalle sue origini francesi, che era questo guerriero, diciamo, dell'ordine di Saint-Dumain, che è questa specie di culto, che era stato cresciuto per, in qualche modo, incarnare il demone di Saint-Dumain, l'angelo, l'angelo della morte, no, secondo la tradizione cristiana, quindi, diciamo la verità, uno completamente pazzo, aveva preso il suo posto per un po' di tempo. La storia comincia con Batman, che è Jean-Paul Vallée, quindi, con, diciamo il, questo alter ego, questo alter ego, infatti, anzi, andiamo subito direttamente alla prima super vignettona, attenzione, che è quella di apertura, che non scherza, eccoci qua, pronti, ah, meraviglia, doppia splash page, ve la sposto anche un po', così rimane, bella, centrata, stiamola leggermente, ah, doppia splash page, doppia splash page infernale, quindi, vediamo questo inferno, vediamo demoni, eh, che si, si contorcono, perché c'è qualcuno che sta sognando, che sta immaginando l'inferno, e vede questa specie di inferno, eh, vegliato proprio da Sandumà in persona, Sandumà in persona, che come vedete, eccolo qua, il venerabile Sandumà, questa è la sorgente del fiume di fuoco, dice la Diascalia, il giusto e spietato castigo che soffrono i vili, una spada rovente impugnata dal più sacro degli eletti del cielo, il venerabile Sandumà, praticamente erano dei cavalieri templari, l'ordine di Sandumà, e, insomma, si diceva che, dentro a, eh, questo figlio prediletto, che era Jean-Paul Vallée, eh, cresciuto, tra l'altro, ci sono stati fatti degli esperimenti per renderlo superforte, superintelligente, eccetera, già quando era nella pancia della madre, si dovesse celare la reincarnazione di Azrael, che, come vi abbiamo detto, era il, l'angelo della morte, secondo i cristiani. Roberto Giovino, quando ci mettono in mezzo angeli, demoni e roba varia, penso sempre a Gaiman, ma non è lui il padre di questo, giusto? Anche se forse ci ha lavorato, non ne sono sicuro. No, esatto, non ci ha lavorato, non è il padre, ma... l'influenza probabilmente c'era, c'era, di Gaimaniana memoria. Eh, qui abbiamo O'Neill, questa storia è Denis O'Neill, quindi, insomma, un Batman abbastanza classico, O'Neill gestiva Batman negli anni settanta, poi è tornato altre volte, insomma, era un po' il padre del primo Batman, un po' oscuro, non ancora anni ottanta, però qua siamo negli anni novanta, quindi abbiamo fatto proprio il balzo nei nineties, nei nineties, siamo proprio nel mezzo di quella enorme saga che vi ho raccontato di Batman che sulla sedia a rotelle non è più Batman e Jean-Paul Vallée ha preso il suo posto. Jean-Paul Vallée, che, attenzione, allora ve lo mostro, indossava un'armatura molto particolare, infatti quando si risveglia, lo vedete seduto sulla sedia nella Batcaverna, perché ovviamente ha preso anche, ecco, si risveglia con questa armatura blu dorata, perché, diciamo, non era un Batman molto convenzionale, era un Batman che non si faceva problemi ad ammazzare, era un Batman dotato di armi, di armatura, aveva questi artigli, aveva questo casco con la visiera che poi vedrete abbastanza dark, e cyber dark, diciamo, un po' Robo, un po' Robocop, quindi insomma era uno non molto a posto di testa, faceva sogni del genere e soprattutto nella sua testa sente sempre la voce dell'ordine di Sanduma, perché i cavalieri di Sanduma hanno questa cosa che, diciamo, controllano in qualche modo mentalmente il povero Azrael, quindi lui già non è a posto, non è a cento, diciamo, e in più ha queste voci perenni nella testa dell'ordine che vuole controllarlo. La tua pronuncia francese? Jean-Paul Vallée, non so come si dice, non so come si dice. Io l'ho sempre chiamato Jean-Paul Vallée, perché era molto americano come nome, però credo sia francese. Sanduma invece lo so dire molto meglio, molto meglio. Allora, allora, cosa succede? Succede che qui, insomma, anche un po' per presentarci il personaggio, vediamo Azrael, lo chiameremo così, nella Batcaverna, che si sveglia da quest'incubo e comincia a riflettere sul fatto se può sostituire Batman in qualche modo, cioè se è abbastanza degno di sostituire il pipistrello. Anzi, vedete questa immagine meravigliosa, eccola, di lui, insomma, davanti agli schermi della Batcaverna, che si mette le mani anche così un po' da emo e dice, ah, sarò io degno di portare il mantello di Batman, di portare avanti la sua battaglia. Arriveranno vocali in francese, iaiaia, tranquilla, ti rimanderò sicuramente, anzi, sarò un po' Batman, un po' francese quando ti rimando. Allora, insomma, dopo aver fatto questa specie di riflessione sul fatto di sono degno o non sono degno, Jean-Paul dice, va bene, cominciamo a metterci al lavoro per stanotte, basta perdere tempo, e comincia a indagare su un furto, sul furto di una formula, diciamo, di quello che è una specie di carburante, un carburante missilistico, e che è stata rubata al Pentagono. E pare che l'abbia rubato un criminale locale, tale Reimer, tale Reimer, che è legato a sua volta con Tony Bressi, Tony Bressi, quindi un italo americano, noi italiani abbiamo esportato la mafia anche a Gotham City, a quanto pare. Insomma, la criminalità locale, siamo in un periodo, tra l'altro, dove senza, con l'assenza di Batman, prima che arrivasse Azrael a sostituirlo, i criminali avevano cominciato un po' a fare quello che volevano. Esatto, Azrael è un po' emo, un po' bassista carismatico, esatto, Roberto. E quindi, insomma, c'è stato questo furto da parte della criminalità di questa specie di strano carburante. Poi andremo a capire bene, orgoglio italico, esatto, capire bene di cosa si tratta. Mentre lui indaga, attenzione, insomma, mentre sta lì a dare un'occhiata ai computer della Batcaverna, la storia passa sempre a Gotham City, in un luogo molto malfamato. Un luogo malfamato è il classico bar, quello pieno di informatori e di criminali di seconda attacca. E infatti vediamo di spalle, e poi nella vignetta in basso il suo occhione azzurro, il buon Frank Castle, il punitore. Punitore che, o The Punisher, che ormai viene chiamato, che forse alcuni di voi hanno conosciuto nella serie TV Netflix, se non hanno mai letto i fumetti. La storia di Punisher, anche lui, è abbastanza semplice, molto simile a quella di Batman. In questo caso, durante uno scontro mafioso, due famiglie di criminali che si stavano sparando a Central Park hanno ucciso i genitori del povero Frank Castle. Lui da quel momento è letteralmente impazzito. Insomma, lui era un militare, un ex-marine, di quelli con la sindrome post-traumatica da guerra, si è dato alla lotta contro i criminali spietata. Lui, ovviamente, è un personaggio che non viene visto di buon occhio da gente come Spider-Man o gli Avengers, che tendono a non uccidere nessuno, se non per tragici incidenti. Quindi avere uno che invece ammazze criminali, non ci pensa due volte, fa giudice e giuria allo stesso tempo, non viene visto di buon occhio. Quindi ha, in qualche modo, alcuni tratti distintivi simili a quelli di Batman, cioè il fatto di essere un personaggio scuro, una sorta di vigilante, di non avere superpotere, ma di essere solo bravo a combattere, ma hanno questo dogma che li rende totalmente diversi, perché Batman non uccide mai, neanche Joker, alla millesima volta in cui ha, che ne so, ha tentato di ammazzare dei bambini. Invece il punitore non ci pensa due volte, se hai fatto anche il minimo crimine in passato, lui arriva, arriva il tele in testa, e ti manda a casa. Diciamo che, ecco, non parteggiamo per i metodi di Frank, forse nemmeno per quelli di Batman, ecco, diciamo che è una via di mezzo, a volte forse avrebbe giovato Gotham City. Oddio, ricordavo la famiglia inteso tipo moglie e figlia. Sì, sì, esatto, era praticamente, stava facendo un picnic, Frank Castle, anche lui di origine italiana, perché in realtà Castle è un nome americanizzato, il suo vero nome è Castiglione, Frank Castiglione. Era a Central Park, stavano facendo un picnic, e due famiglie hanno deciso di regolare i conti, così, nel parco, e spara di qua, spara di là, in mezzo ci sono finiti loro, per uno stupido scontro tra bande mafiose. Comunque, Frank Castle è la ricerca di Mosaico. Mosaico è un suo nemico, insomma, uno dei suoi nemici principali, un criminale a cui lui stesso, tra l'altro, ha, diciamo, lo stesso Castle ha contribuito a creare l'identità di Mosaico, perché dopo averlo picchiato e lanciato in una vetrata, tutti i vetri infilzati nella faccia hanno sfigurato questo tizio, che ha dovuto fare un'operazione un po' così di... alla buona per tornare a... a non avere la faccia tutta smaciullata, e quindi è pieno di cicatrici che gli creano una serie di... di vero e proprio mosaico, cioè lui ha la faccia fatta tutta a cubi per via di... per colpa di Frank Castle, che in realtà, vabbè, si è pentito non di averlo sfigurato, ma di non averlo ammazzato, quindi vuole regolarsi su questo punto di vista. Che bella è questa storia dove i cattivi si abbracciano e si vogliono bene. Esatto. Esatto. Comunque, Frank Castle, il punitore, è a Gotham City, è alla ricerca di Mosaico, fa le cose a suo modo, inizia a spaccare bottiglie, dare cazzotti, insultare criminali, non è uno che, appunto, ha mezze misure, chiede informazioni, dice, ditemi subito dove è Mosaico, voglio saperlo, non perdiamo tempo, se volete uscire vivi, ditemi tutto. Infatti, attenzione, altra cosa non tipica dei supereroi, punta un bel mitra in faccia a questo tizio, gli dice, dimmi assolutamente dove è Mosaico. Nessuno sa dove Mosaico sia, ma il tizio qua, ho chiaruto, gli dice, guarda, io però so che c'è una chiesa al limitare di Gotham City, dove tutte le sere si reca quello che, diciamo, fa l'intermediario, tra Mosaico e la criminalità di Gotham City, e in questa chiesa, forse è molto religioso, probabilmente, lui si ritrova lì tutte le sere, vai lì, interrogalo, io non posso dirti, non so altro, non so altro. Frank, ovviamente, non lo ammazza, perché comunque questo è, non è un criminale che ha ucciso nessuno, Frank, c'è da dire che uccide solo chi ha fatto gravi danni o ha assassinato qualcuno, se rubi, se scippi una e non succede niente di grave, diciamo, tende a risparmiarti, perlomeno se vuole avere delle informazioni, è pazzo, ma non fino a questo punto, tende a crederci, però lo minaccia, gli dice, guarda, che se non è vero quello che mi hai detto, sappi che tornerò, e te la farò pagare, te la farò pagare. Nel frattempo, la la scena si sposta nel palazzo di Mosaico, nel palazzo di Mosaico, che è lo stesso di Reimer, quello che abbiamo parlato prima, quello che aveva rubato la formula al KGB, e i due stanno chiacchierando, ora ve li mostro, così potete vedere, se non lo conoscete, vabbè, Reimer è quello vestito elegante, con la barba rossa e gli occhialoni, Mosaico, direi che si capisce abbastanza, è quello che vedete prima a sinistra e poi in basso, con la faccia tutta a pezzi, no, di diversi colori, con le, letteralmente, le cuciture sul volto, per tenergli attaccata la faccia, dopo il casino di Frank, è un lavoro onesto quello di Frank, esatto, esatto, sì, Frank è il classico, insomma, è un lavoro duro, ma qualcuno deve pur farlo, Frank è lui, lui va nei bar a picchiare persone, di cosa chiacchierano qua i due, comunque, vabbè, ci viene confermato, ovviamente, che la formula è stata davvero rapita, cioè rapita, rubata da Grimer, e ci viene spiegato che cosa fa questo combustibile rubato al KGB, barra FBI, insomma, alle forze segrete, un po' di tutto il mondo, che tra l'altro, pare che condividessero la formula da varie parti, no, cioè quindi c'erano, non so, i russi ne avevano un po', gli americani ne avevano un po', e quindi, anche a livello di intelligence, tipo FBI, queste cose qua, c'era un po' di lotta a chi dovesse possedere questa formula, ed è tra i criminali ancora di più. Questa formula permette un po' ostile, come si chiama, non mi viene in mente, quella cosa che c'era anche in Assassin's Creed, Roberto Iovino, quella mossa, cioè, quell'arma che avevano le navi e che bruciavano di fatto l'acqua, cioè lanciavano questo fuoco che incendiava il mare, e quindi le navi non potevano poi raggiungerle in nessun modo, perché di fatto era come se l'oceano si incendiasse. Quindi, insomma, una cosa molto simile che permette di rendere imbevibile l'acqua, un vero e proprio combustibile che prende fuoco e, se buttato in una falda acquifera, la inquina totalmente. Il piano di mosaico, come vedete, dimostra tra l'altro uccidendo un povero ragno sulla sua scrivania, perché stava vuotando questo combustibile. Sì, esatto, era un olio incendiario alla fine, ma era proprio un modo che chiusavano le navi, adesso non mi ricordo come si chiamava, dovrei googlarlo. In questo modo, mosaico dice se noi riusciamo a buttare questa cosa nella falda acquifera di Gotham, Gotham City resterà secco, non ci sarà più acqua. Noi, dato che Grime era anche un imprenditore barra architetto che ha in mano anche le costruzioni di Gotham City, noi possiamo fare, essere gli unici a poter ricattare Gotham City per potergli cedere l'acqua, l'acqua per potersi abbeverare, saremo gli unici che potranno fare ai nostri prezzi, insomma, quindi il loro modo, diciamo, per arricchirsi è quello di lasciare Gotham City a secco. mosaico dice che questa cosa a New York non la puoi fare perché è una città troppo controllata, invece Gotham City è molto più lasciata allo sbando, quindi lui dice qua è il territorio fertile per poter fare questa cosa. Nel frattempo, ah, ovviamente Grime e mosaico dicono l'importante è che Frank Castle non ci mette i bastoni fra le ruote perché mosaico sa che il punitore in realtà è già arrivato a Gotham City e anzi speriamo che la sorpresina che gli abbiamo preparato ci aiuti a tenerlo lontano. Questo ci fa capire che la chiesa dove si sta dirigendo il povero Frank in realtà è una bella trappola. Infatti quando Frank arriva finalmente a San Ludger che questo è il nome della chiesa viene accolto da questa suora che come vedete nella vignetta in basso ha un po' la faccia di una che non ha preso propriamente i voti ma probabilmente si sta travestendo solo da sua ora questa entra e la prima cosa che fa come vedete è lanciare così una benedizione di Acqua Santa al povero Frank che Acqua Santa però non è Acqua Santa non è perché appena tocca l'epidermi del povero Frank questi cominciano a sentirsi male sentirsi avere sudore inizia a svenire capisce che c'è qualcosa che non va e scopriamo che infatti è semplicemente una una specie di veleno un veleno che a contatto uno di quelli che si attiva a contatto con la pelle ti stordisce inizia a perdere anche la mobilità e a un certo punto sente odore di bruciato perché la suora appena uscita dalla chiesa tra l'altro entra in macchina e trova mosaico che la stava aspettando da fuoco alla chiesa da fuoco alla chiesa e vediamo il povero Frank indebolito così in mezzo all'incendio che sta divampando eccolo qua prova a coprirsi un po' mettendo comunque il mantello insomma il cappottone che portava sopra la testa per evitare di rimanere incendiato però non c'è acqua nemmeno per bagnarsi per cercare di stare attento però debole appunto riuscendo a muoversi a malapena tenta di scappare ma come vedete sembra quasi succombere perché cade per terra cerca di nascondersi dietro l'altare capisce ovviamente che è stato fregato e che mosaico sapeva che lui sarebbe rimasto lì i polmoni cominciano a riempirsi di fumo perché la chiesa sta venendo venendo bruciata e cade a terra dice cavolo stavolta forse è la fine non so Frank non è uno che si arrende ma le forze sembra che lo stiano abbandonando anche perché col veleno in corpo non riesce quasi a muoversi quindi si getta a terra sì 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 era il fuoco greco di fatto veniva chiamato San qualcosa non mi ricordo da chi però era il fuoco greco di fatto sì 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 comunque l'incendiare l'acqua tra virgolette la magia di incendiare l'acqua ecco un processo molto simile quindi per fortuna arriva con una bella vignettona che vi mostro subitissimo e un bel crash Jean Paul Vallée sfonda la vetrata della chiesa perché era anche lui sulle tracce di questo furto come abbiamo visto e con gli indizi è arrivato nello stesso posto di Frank arriva con la sua bella armatura il suo bel casco sfonda la chiesa sfonda la vetrata della chiesa tra l'altro Frank Castle dice una cosa abbastanza divertente dice ok sto vedendo questa specie di demone entrare in volo distruggendo la chiesa tra l'altro Frank questa storia conosce Batman perché come vi dicevo come vi ripeto sempre i primi crossover Marvel e DC si sono ambientati immondi dove entrambi i supereroi conoscono l'altro e non sono i due universi non sono separati poi questa cosa verrà motivata ve lo dico sempre manca poco a scoprire la verità su quello che c'è dietro questi incontri però per adesso erano semplici collaborazioni quindi lui conosce Batman ma non conosce questo Batman vede che non è il solito Batman e vede questa armatura strana quindi dice o mi stanno salvando quindi qualcuno è venuto a salvarmi o in realtà sono morto quello che sto vedendo è letteralmente l'angelo della morte perché cioè o sto avendo delle visioni perché sono qui mezzo morente in chiesa o sono già morto e mi stanno venendo a portare all'inferno e questo è un diavolo infernale quindi insomma il povero Frank rimane abbastanza sconvolto da questa cosa rimane sconvolto ma per fortuna sua è davvero un salvatore infatti come vedete lo porta fuori dalla dalla chiesa Frank cerca di bofonchiare qualcosa mi hanno cercato di uccidere mosaico ma non ce la fa va lei però comunque pazzo quanto volete ma prima di lasciare morire una persona deve accertarsi che sia un criminale e quindi immaginando che il povero Frank non sia il colpevole di questo incendio lo porta fuori e lo salva mentre la povera San Ludger prende fuoco e crolla peraltro il fuoco greco è la forma inreftimenti segreta che io sappio oggi sappiamo solo gli ingredienti ma non le quantità quindi un po' di allone magico su quella tecnica è rimasto è rimasto credo che invece fosse semplice fuoco per restare in argomento quello della che la scuola ha usato per bruciare San Ludger incendio che ormai divampa i due chiacchierano per un po' Jean Paul Vallée fa io ti conosco tu sei il punitore tu persegui una causa giusta però uccidi troppo indiscriminatamente quindi comunque Jean Paul Vallée famoso per essere il Batman che comunque uccide il Batman violento è assurdo che passi quasi per buono davanti a Frank Castle che è peggio di lui gli dice guarda io devo arrestarti non posso lasciarti a piede libero però Frank dice facciamo così se tu dopo vuoi dopo questa missione mi arresti o almeno ci provi però per adesso dobbiamo collaborare perché io so cose che tu non sai io conosco bene Mosaico conosco bene il suo modo di muoversi ti assicuro che è lui che c'è dietro il furto di questo di questo componente per distruggere l'acqua per far essiccare l'acqua per renderla imbevibile quindi di bellearti per forza con me Jean Paul Vallée un po' riluttante accetta e i due salgono a bordo della Batmobile tra l'altro con i pensieri di Frank Castle che dice ammazza la faccia dell'auto della superauto vi ricordiamo che Frank Castle gira in questo furgoncino a volte un po' scalcagnato a volte nemmeno quello con Micro diciamo diminutivo di Microchip che è questo tizio che lo aiuta quindi comunque con una radiolina con dei computer che gli dice sempre non lo so il suo spettato si trova di qua ho scoperto questa cosa lo aiuta diciamo nelle indagini ma è una cosa molto raffazzonata Frank è proprio il classico ex militare bravo a costruirsi le cose con lo scotch e il graffette e non ha grandi mezzi per agire anche perché deve farlo in incognito nessuno vuole supportare la follia del punitore invece Batman miliardi che piovono e anche se questo non è il vero Batman la Bat Caverna la casa di Bruce Wayne tutti i soldi di fatto gli armamentari di Bruce lui c'è lì a Jean Paul quindi insomma i due su questo caso sono molto molto diversi il punitore dice ok dirigiamoci in questa sauna abitata insomma popolata da criminali specialmente russi perché ho sentito che alcuni russi interessati a mettere le mani su questa su questo tipo di di elemento che potrebbe essere utile anche in guerra perché insomma immaginate attaccare il campo di un nemico alla base di un nemico e profugagli le scorte d'acqua li rendi come dei topi in trappolo che devono uscire per forza quindi anche la russia potrebbe essere interessata a questa questa tipologia di formula e probabilmente mosaico magari potrebbe aver preso accordi con loro in qualche modo potrebbe conoscerli quindi andiamo in questa sauna che ovviamente è una sauna fatta di incontri di affari dove si incontrano i malavitosi il bue che dice con uso all'asino esatto Roberto sono letteralmente uno più cattivo dell'altro ma cerca ognuno di passare per quello buono per quello che non sbaglia i due comunque vanno tra l'altro vedete c'è questo signore nerboruto con le braccia concerte che li accoglie e nella sauna eccola qua incontrano una serie di criminali che tutto sembrano tranne che ovviamente cortesi e pronti a dargli informazioni tra l'altro non so se notate la meraviglia di questi uomini alcuni si stanno allenando c'è qualcuno che ovviamente si sta intrattenendo probabilmente con qualche donna o qualche uomo insomma è anche un posto un po' di perdizione perché di fatto è una sauna privata dove ci vanno tutti i potenti di Gotham ce ne sono alcuni che come vedete guardano direttamente i nuovi arrivati perché sotto potete vedere immaginate di essere in sauna e vi vedete entrare questi due figuri uno in armatura assolutamente kitsch oro blu con la visiera rossa l'altro con un teschiazzo così bianco sopra il petto insomma che vi guardano potete immaginare quale sia la reazione infatti alcuni in un inglese stentato tanto questa è la versione italiana ma il tizio parla in inglese urla get them comunque in un inglese stentato da russo fa get them catturateli e si lanciano contro i due mosaico ovviamente non si trova è di fatto un buco dell'acqua ma oramai sono lì quindi devono menare cominciano a menarsi i vari gangster e Jean Paul il punitore considerato il grigiore mi sa che stanno abbastanza male conviene che escono dalla sauna se in effetti non mi sembrano dei fumi proprio tipici da sauna magari c'è anche qualche sostanza che sta bruciando assieme alla agli oli tipici no comunque usati usati nella sauna i due si menano con i vari i vari personaggi che popolo non lo sa una botte da orbi botte di qua botte di là finché scocciato Jean Paul usa la sua classica arma che è il fumogeno e eccolo qua buttano questa enorme bomba fumogena che stordisce chiunque ci sia intorno tanto lanciando all'ultimo una mascherina per il povero Frank Castle che non ha niente per proteggersi Azrael ce l'ha ovviamente nella maschera del costume e e riescono a liberarsi facilmente dei dei criminali che insomma volevano stavano combattendo tra l'altro qui Azrael impazzisce completamente perché dice ma ho avuto un buco nell'acqua io sono un fallito Batman non avrebbe mai fallito comincia a farsi un po' di pare e infatti come vedete comincia a urlare ad alzare le braccia al cielo no Sanduma Sanduma e Sanduma gli appare non si capisce bene se è un'apparizione vera o se è sempre una di quelle cose che gli viene buttate in testa dall'ordine no che lo controlla il fatto sta che inizia a parlare da solo e gli arriva anche un indovinello in testa insomma che gli dice mi raccomando l'acqua in fiamme è quello che devi cercare l'acqua in fiamme l'acqua in fiamme e lui comincia a ripetere l'acqua in fiamme l'acqua in fiamme chissà cosa sta dicendo nel frattempo il punitore vede che questo sta parlando da solo capisce che non è proprio informissima e decide di telare di lasciare mosaico Azrael lì da solo Azrael si accorge che il punitore è scomparso ma uomo tutto d'un pezzo prende la Batmobile e comincia a cercare nel computerino un modo per capire dove potersi dirigere dove potersi dirigere e intuisce che Grimer e Bressi l'altro piccolo criminale criminale di cui vi ho detto prima si sono accordati poco tempo prima per la costruzione di un palazzo e dice vuoi vedere che quello è lo stesso palazzo che Bressi adesso occupa e Mosaico da poco arrivato è andato a abitare lì e infatti così è torniamo al palazzo di Mosaico e di Grimer che abbiamo visto prima con i due che stavano ancora chiacchierando sulla formula di quest'acqua strana che può questo carburante che può distruggere l'acqua Jean Paul vede che parcheggiato fuori dal palazzo c'è una limousine dice vabbè è mezzanotte non ci ingiro nessuno c'è un palazzone una limousine nera devono essere per forza lì fa 2 più 2 capisce di avere la ragione e becca proprio Reimer e Mosaico che ancora stanno parlando di quella che è la formula miracolosa per un po' Origlia intanto registra quello che stanno dicendo quando i due non hanno più nulla da dirgli di nuovo come vedete incombe incombe Mosaico poco prima intuendo che qualcuno si era infiltrato nel palazzo riesce a telare e rimane solo il povero Reimer che viene pestato di brutto da Jean Paul e gli dice spiegami assolutamente tutto il vostro piano lui ovviamente Reimer non decide di confessare tutto infatti gli dice Mosaico ha sabotato il condotto principale del nuovo bacino idrico quando l'acqua comincerà a scorrere darà fuoco al nostro carburante e questo renderà l'acqua infiammabile come benzina ne brucieremo milioni di litri qui insomma la povera Gotham resterebbe a secco appena dice che l'acqua insomma il carburante bruciera l'acqua si Jean Paul dice aspetta San Dumas mi ha detto acqua in fiamme acqua in fiamme quindi mi aveva messo sul giusto indizio per capire quale fosse la pista da seguire e la pista da seguire è quella di andare all'acquedotto di Gotham per capire ma il mosaico che cosa ha fatto e decide di farlo decide di farlo quindi si mette subito in moto e dice ok acquedotto acquedotto arriva all'acquedotto e nota che appunto c'è una parte del condotto che è praticamente stata distrutta perché qualcuno con una palla da demolizione ha distrutto una parte dell'acquedotto deviando così la parte del corso e facendo in modo che questo carburante si mischiasse con l'acqua purtroppo arriva abbastanza tardi e non può impedire che le due cose si mischino quindi insomma il piano sembra aver avuto successo ma è l'inizio del piano perlomeno intanto mosaico che se n'è andato dalla torre è tornato nel suo ufficio è al telefono e sta dicendo beh guarda non si sa con chi è il telefono però dice entro domani mattina il piano sembra aver funzionato quindi stai tranquillo Gotham finirà a secco e noi diventeremo i nuovi capi di Gotham chiedendogli chiedendogli insomma un riscatto quando dietro di lui attenzione lo mostro subito arriva il punitore che nel frattempo staccatosi da Jean Paul Valley comunque ha deciso di proseguire la sua indagine e ha scovato dove mosaico insomma in quel momento stava lo minaccia mosaico gli dice che finirà il lavoro gli dice il punitore quindi ti ucciderò definitivamente dopo averti sfigurato mosaico dall'altra parte dice no io apro la mia vendetta perché voglio che me la pagherai anzi io sfigurerò te come tu hai sfigurato me piccolo momento di lotta quindi i due si si menano si si azzuffano tra l'altro il punitore cerca di colpire sempre con un coltello al volto mosaico perché dice ti ho sfigurato una volta posso farlo ancora di più il mosaico intanto spara insomma coltelli pugni pistole l'ultimo lancio di coltello riesce a far togliere la pistola dalle mani di mosaico da parte di frank ma un colpo becca frank alla spalla ve lo mostro subito attenzione il povero frank viene ferito e si trova dolorante tra l'altro frank è abbastanza bravo a evitare i proiettili quindi c'è anche lo shock di uno che non è abituato a essere colpito che si trova un proiettile nella spalla e questo da modo a mosaico ovviamente di fuggire perché frank non ha superpoteri non può guarire in automatico come tanti supereroi quindi deve cercare di di tamponare la ferita mentre mosaico si dà alla alla fuga c'è di buono come dice lo stesso frank che insomma le persone corpulente sono lente questo lo dice con parole un po' più alla frank castle che noi ripeteremo ci dissociamo dalla cativeria di frank ma riesce a raggiungere mosaico sul tetto riesce a raggiungere mosaico sul tetto i due ancora si menano mosaico salta verso frank frank si abbassa mette le mani sopra e lancia mosaico giù dal palazzo perché come vi ho detto frank non è spider man frank non è capitale america e quindi tac mosaico viene lanciato giù morirà non morirà a frank non gliene frega niente deve pagare per quello che ha fatto e quindi giù dal palazzo così mi sembra un modo semplice per liberarsi di nemici cose che in anni i superiorei non hanno mai fatto diciamo no il body shaming no esatto povero mosaico già l'hai sfigurato in più lo insulti anche perché sovrappeso poveraccio poi non è che sia messo non sia così sovrappeso fra l'altro è un po' più corpulento un po' più corpulento di te frank anzi sembra abbastanza leggero se riesce a sollevarlo e scalaventarlo giù da un palazzo in quel momento però sopraggiunge a azrael quindi niente morte di mosaico eccolo qua arriva a azrael mentre frank tra l'altro si gode con ancora la sua spalla sanguinante la caduta del povero mosaico tra l'altro dice ai netturbini occorrerà ai netturbini occorrerà carta assorbente domani mattina per riuscire a scrostarlo dall'asfalto povero mosaico ma vediamo che arriva Jean Paul Valley che in volo prende in pieno mosaico anche perché ripeto Jean Paul è violento ma non uccide di proposito diciamo che se lo attacchi e lo metti a fin di vita lui ti ammazza ma se no almeno una possibilità te la dà è leggermente più buono del punitore quindi ma non vuole uccidere mosaico che vede che sta cadendo come un sacco di merda giù da da questo palazzo di Gotham City lo butta dentro una finestra con un calcio e lo interroga lo interroga gli dice dimmi tutto quello che sai e forse ti sarà salva la vita gli spiega che quello che è successo gli spiega che il punitore tra l'altro ha cercato di ucciderlo quindi dice ok io ho scatturato sono catturato però non puoi lasciare che il punitore vada in giro Azrael infatti dice no no ma io ho promesso al punitore che lo arresterò tra l'altro mi ha abbandonato alla sauna quindi assolutamente ti lascio qua e vado un attimo a chiarire con lui poi torno e ti arresto nei fumetti lasciare un criminale anche se imbavagliato da solo non è mai una bella soluzione infatti vedremo cosa succede succede che mentre Jean Paul va sul tetto dal punitore a dirgli ma che cazzo fai cosa butti il mosaico giù dalle finestre ecco che arriva il Joker the Joker e scopriamo che era lui era lui l'alleato segreto di mosaico in cui era il telefono che infatti ora si è presentato qua e dice guarda mosaico mi sembri un po' una pezza una palla del piede che non mi aiuta però insomma io sono nemico di Batman tu sei nemico di del punitore conviene stare ancora alleati per un po' infatti quel coltellino dell'ultima vignetta sembra una minaccia mosaico del tipo ti apro altri buchi nella faccia ma in realtà poi lo scopriremo è solamente una velata minaccia per poi usare quel coltello per liberarlo dalle corde quindi Joker fa la sua entrata in scena un Joker tra l'altro super criminale in questa storia poco buffone molto cattivo molto questo ghigno molto farsesco addirittura ha le labbra verdi nemmeno violano quindi sembra tutto emaciato tutto abbruttito più incazzato del solito più minaccioso del solito infatti siamo proprio in periodo di Joker all'aggiare letto quindi insomma look classico per carità non quell'orribile look che va all'aggiare letto però molto criminale il Joker che vuole diventare il re del crimine meno pagliaccio meno clown meno buffone meno barzellettiere ma più faccio crimini con stile perché sono Joker libera mosaico e nel frattempo sul tetto da distrarsi da questi due che ovviamente se la tenano a gambe distratti dai due cattivi ci sono Batman e Jean Paul Vallée Batman e poi Punisher che si menano si menano perché uno non crede all'altro e quindi insomma dice è punitore io però non sono sicuro che tu sia dalla parte del bene perché i tuoi metodi non mi convincono perché mi hai abbandonato non è che magari stai cercando di passare dall'altra parte della barricata quindi diventerai anche tu un criminale il punitore allo stesso modo dice io so che tu non sei il vero Batman mi hanno parlato di te tu sei un Batman violento insomma non meriti il mantello si stuzzicano si provocano e come può finire una cosa fra superiore che si stuzzicano solo così con un bello scontro pugni pistolettate tra l'altro il punitore non ci pensa due volte come vedete quando è a terra a sparare contro il povero Jean Paul vedete due bei blam blam dritti nel petto ma il giubbotto antiproiettile l'armatura antiproiettile di Jean Paul lo protegge e gli dà modo di dare una bella artigliata che rischia di sfigurare anche il povero Frank ma non gli fa niente se non fagli sputare sangue perché all'ultimo Jean Paul chiude il pugno e quindi cerca di fracassare i denti al povero al povero Frank Castle lo scontro continua ovviamente il punitore è un pochino debilitato dal fatto che ha il braccio ferito ma riesce a rubare dalle tasche dello stesso Valet tra l'altro una bomba fumogena diciamo lo stesso tipologia che ha usato prima Jean Paul nella sauna la lancia e attenzione boom riesce a scappare accecando il povero Jean Paul capisce che il mosaico è stato salvato non c'è più nessuno di loro ha visto Joker e basta il punitore abbandona Gotham City dicendo tornerò ma nel frattempo vado alla ricerca di mosaico che secondo me lascia la città cosa assolutamente sbagliata perché mosaico non lascia la città ma decide di scomparire per un po' di non farsi vedere assieme a Joker suo nuovo alleato e diciamo questo passaggio della storia che ora vi mostro vedete infatti c'è Jean Paul che sta ancora tossendo e il punitore che potrebbe anche ucciderlo però dice in realtà tu sei un eroe non bravo ad agire ma non sei un criminale quindi non non ti punisco forse non sa delle morti che ha accidentalmente provocato Jean Paul altrimenti probabilmente l'avrebbe ammazzato quindi vuole gliela da vinta gli dice va bene ti sa insomma ti ti lascio vivere e me ne vado me ne vado e la diciamo questa prima parte di storia si conclude con Jean Paul sul tetto di Gotham City che pensa e dice ma forse non sono davvero il miglior Batman in circolazione forse non sono degno di Bruce Wayne e insomma c'è il classico momento così all'amleto essere o non essere di lui che guarda l'orizzonte si domanda se è effettivamente degno di portare il mantello seconda parte come vi ho detto ce la leggiamo tutta tanto non è molto non è molto lunga passa qualche mese passa qualche mese tra l'altro la seconda parte si intitola Cavalieri Mortali perché comunque entrambi hanno un po' questa cosa del cavaliere Jean Paul ovviamente di più attenzione attenzione abbiamo un Ezio Greggio improvviso che recupera l'abbonamento di Greco 89 fatto nella scorsa nella scorsa live è arrivato adesso finalmente quindi Greco 89 benvenuto negli abbonati benvenuto negli abbonati ciao infatti vedo che sei anche in chat Greco 89 si è abbonato vi ricordo che se volete abbonarvi anche voi con Prime l'abbonamento è gratuito e avrete un bellissimo greggio che urla leveline come avete visto e si si vi accoglie nel gruppo di abbonati sono solo contento che Greca abbia potuto vedere il vero alert dedicato a lui dicevamo seconda parte seconda parte cavalieri mortali stavolta la storia di Chuck Dixon quindi cambia lo scrittore e attenzione perché aiutato da Klaus Johnson c'è John Romita Junior ai disegni John Romita Junior mostro degli anni 90 ma anche degli anni 2000 io sono uno di quelli che lo adora con il suo modo di fare fare i personaggi massicci adesso lo vedremo top cioè Romita un dei migliori disegnatori soprattutto di Spider-Man e anche di Batman devo dire sono i due personaggi che secondo me ha disegnato meglio dicevamo passa qualche mese passa qualche mese siamo nel classico nel classico magazzino abbandonato in questa storia come vedete ogni volta c'è un magazzino abbandonato siamo a Gotham City mosaico ci viene detto da il punitore non si è più visto a New York come avevamo detto infatti non aveva mai mollato Gotham a dispetto di quello che aveva creduto il punitore e Frank è tornato a Gotham è tornato a Gotham dice che odia Gotham perché qua c'è troppa feccia addirittura più di New York City quindi ucciderli tutti è una perdita di tempo questi sono problemi da primo mondo per Frank Frank che si infiltra in questo magazzino e ci viene presentato con una doppia vignetta della Madonna eccola qua disegnata da John Romita Junior questo Frank che è più muscoli che armi e che sta smitragliando uccidendo qualsiasi criminale trova in questo magazzino nel magazzino c'era in corso una sorta di riunione fra pesci piccoli e quindi Frank dice per capire dove è mosaico l'unico modo è chiedere a tutti questi pesciolini proprio come nel telefilm quando andava in questa riunione di mafiosi e inizia a sparare con fuori dal magazzino li vedete in basso a destra Detective Bullock Gordon e come si dice Montoya René Montoya quindi insomma tre alleati di Batman della polizia di New York di Gotham City che dicono non ci conviene entrare perché finiremmo malissimo è un esperto tiratore quindi rischierebbe di crivellarci di colpi e quindi aspettiamo che finisca tutto ciò e anzi magari aspettiamo che arrivi Batman ad aiutarci in qualche modo perché sanno che è l'unico che può tenere a bada il punitore certo che se a Gotham riqualificassero i magazzini abbandonati la criminalità non saprebbe dove andare a parare ma non solo a Gotham anche a New York va detto anche nella Marvel questi magazzini vengono sempre usati ci vorrebbe Gabibbo parlando di Veline di Trisha la notizia Gabibbo che va lì e dice questo è un magazzino abbandonato i soldi dei contribuenti usati per ottenere i magazzini liberi con i criminali o lui o Brumotti che in bicicletta va a dire ai criminali di non incontrarsi chiedo perdono ovviamente per questa imitazione del Gabibbo Batman arriva Batman arriva quando oramai tra virgolette è troppo tardi perché rimane solamente un in piedi solamente un poveraccio e il punitore si fa dare le informazioni che gli servono e se ne va in tempo prima che Batman arrivi e possa possa fermarlo dal da ottenere diciamo queste informazioni ma quando il punitore incontra un altro sgherro diciamo di mosaico comunque di qualcuno in contatto con mosaico e sta tra l'altro per istorci delle informazioni e dopo che gli ha le istorte sta per ucciderlo Batman fa questa cosa attenzione altra vignetta doppia anche per lui piomba dal cielo in questa maniera super cupa con il volto totalmente coperto e atterra sulla testa del punitore vi mostro la vignetta anche dell'atterraggio di Batman e gli dice Frank non fare cazzate cosa stai facendo e sbama ecco l'atterraggio e come potete notare è Bruce Wayne perché nei mesi passati tra la prima parte del crossover e la seconda parte Bruce Wayne aveva ripreso il mantello di Batman aveva trovato il modo di tornare a camminare dato che Bane l'aveva tenuto sulla sedia a rotelle avendogli spezzato praticamente la schiena aveva destituito Azrael come suo successore perché come abbiamo detto era troppo pazzo troppo criminale rischiava di uccidere ogni volta che andava avanti la sua carriera da Batman era sempre più pazzo aveva sempre più voci nella testa Sanduma le cose quindi ha detto no basta essere Batman gli ha tolto tutto l'ha perdonato poi vabbè nel futuro Jean Paul Valley comunque diventerà un alleato di Bruce Wayne Batman però all'epoca era proprio pazzo quindi insomma nel frattempo c'è stato un cambio al vertice e questa cosa la nota la nota anche Frank Castle che mentre mena Batman perché dice perché non mi lascia uccidere questi criminali di seconda attacca che non valgono niente intuisce che dal modo di combattere quindi molto più tecnico e anche dal modo come vuole risparmiare e non essere non esagerare nemmeno con i criminali capisce che molto probabilmente Batman è tornato quello di una volta quindi non c'è più il caro buon vecchio Jean Paul a portare la maschera grazie per la clip ti ringrazio Greca resterà una clip storica Jabber Motik nei suoi servizi bruttissimi sarebbe il top su Terra 616 non so come si chiama ora la terra base della DC forse Terra non lo so qual è la terra base credo sia sempre Terra 1 ma possibile no Terra 1 era non lo so non lo so anche io la chiamo Terra io la chiamo Terra Primaria Terra Prima come del resto anche quella della Marvel perché anche nella Marvel ora non si chiama più tutti la chiamano 616 ma si chiama Terra Prima anche lì fatto sta che i due si menano i due si menano e mentre si picchiano bravi come sempre mentre gli eroi si menano i cattivi scappano quindi quello minacciato da punitore che gli ha dato tutte le informazioni tra l'altro del caso riesce a scappare riesce a scappare e scemo degli scemi eccolo qua finisce proprio da mosaico mosaico che appunto non si è mai spostato da Gotham City e ora vediamo fasciato non ha più la sua faccia letteralmente a mosaico ma ha delle fasciature perché se si è sottoposto a un'informazione a un'operazione e come vedete sul tavolo è pieno di antidolorifici li prende da mattina alla sera e gli dice tu sei scappato dal punitore e hai il coraggio di venire qua dopo avermi letteralmente tradito perché questo glielo dice il punitore ha cercato di uccidermi sono mezzo rotto ho dovuto dirgli tutta la verità ma tu hai avuto il coraggio di dirgli dove mosaico agisce dove fa le sue cose dovrei fartela pagare qualcuno dice no 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 mosaico non dovresti devi fargliela pagare anzi ci penso io e da dietro le quinte arrivano dei colpi di pistola che ammazzano il poveraccio e a spararli è Joker che è il re del crimine che sta proseguendo la sua alleanza con mosaico dopo averlo liberato dalle corde come abbiamo visto nella storia precedente e così come ho detto questo è il Joker più criminale è un Joker proprio oscuro tipico dei primi anni 90 con questo ghigno malefico poi disegnato a Giorromita ciao proprio ammazza brutalmente il traditore perché dice che tanto non serve a niente non sarebbe mai stato fedele e tranquillamente continua la sua chiacchiera con mosaico come se niente fosse quindi abbiamo già un bel morto sulla coscienza da parte di di Joker mosaico è un po' incazzato però dice Joker scusa un secondo tu mi hai promesso e qua veniamo a capire un po' la roba dei suoi accordi che io ti avrei aiutato a collaborare insomma ti avrei aiutato a diventare a vendicarti di Batman comunque a amministrare la criminalità e la criminalità di Gotham come vuoi tu e tu in cambio avresti dato una bella fetta della città anzi mi avresti fatto diventare probabilmente il maggior il criminale più grande il kingpin per citare un nomignolo Marvel della città ma ancora non sta succedendo niente perché Joker dice abbi pazienza tempo al tempo io in cambio ti ho fatto fare quest'operazione quindi non sei più sfigurato le bende ti aiuteranno a guarire vedi di trattarmi bene perché insomma se voglio posso riprendermi la faccia che ti ho regalato Romita Junior un dio mamma mia no no Romita Junior veramente totale top totale parlando di indagini insomma mentre Joker e Mosaico hanno un po' un battibecco anche lì tipico dei cattivi Marvel torniamo nelle rispettive covi di due personaggi da una parte c'è il punitore che si sta lavando le mani diciamo dopo la nottata perché ha ammazzato abbastanza persone dall'altra parte c'è Batman che sta parlando con Robin qua siamo negli anni 90 quindi Robin era credo Tim Drake sì era il terzo il terzo Robin il primo Robin era Dick Grayson oramai diventato Nightwing all'epoca e l'abbiamo visto l'altra volta in Teen Titans contro X-Men poi c'è stato Jason Todd il secondo Robin ucciso brutalmente da Joker qua era ancora morto negli anni più avanti poi è tornato ma qui era bello che è morto qui avevamo Tim Drake quindi terzo Robin anche lui adottato da figlio adottivo di Bruce Wayne molto abile nell'investigare infatti Tim Drake era un aspirante investigatore che scoprì l'identità di Bruce Wayne e Bruce Wayne disse vabbè se un ragazzino è così bravo a indagare me lo prendo come alleato era tutto al più anche lui senza genitori quindi terzo Robin fu Robin che non sa di Joker anche Batman questa cosa non la sa ma vede che Mosaico sta piano piano scalando le vette della criminalità Gothamita e dice come è possibile che Mosaico che non ha una rete di informazioni non conosce nessuno qua Gotham può in qualche modo scalare i vertici della criminalità deve per forza appoggiarsi a qualcuno e noi sappiamo che qualcuno è Joker loro ovviamente non lo sanno possono solo fare delle ipotesi per adesso sono lì che indagano e dicono cerchiamo di capire cerchiamo di capire e anzi Batman dice Robin tu continua a rimanere qua infiltrati magari in qualche database di qualche dell'FBI eccetera cerca di capire un po' che informazioni hanno con riguardo mosaico riguardo comunque la guerra diciamo di tra gang che sta avvenendo in quel momento perché anzi più che guerra tra gang è proprio una guerra di territori c'è stata una guerra tra gang lì a Gotham City e ora tutti cercano di spartirsi il territorio l'FBI magari ha delle informazioni che Batman non ha quindi dice Tim tu indaga indaga e nel frattempo proseguono le loro avventure assieme Joker e Mosaico minacciano un poveraccio tra l'altro lasciandolo pure affogare vi faccio vedere questa scena mega brutale qua abbiamo un Joker cattivissimo ragazzi gli mette pure il piede in testa prima che la marea lo travolga ovviamente non farà una bella fine tra l'altro gli dice anche hai mangiato prima di vederci lui fa no perché non vorrete nessuna digestione ciao e se ne vanno questo poveraccio che viene totalmente sommerso e non farà una bella fine perché non viene più mostrato e Batman non è di certo venuto a a salvarlo cosa succede? succede che questo sottoposto insomma mafioso svela a Joker e Mosaico dove si trova Tony ha un nome italiano no Jimmy Jimmy Navarone Jimmy Navarone un altro italiano americano per continuare a portare il nostro il nostro DNA nella mafia nella mafia americana Jimmy Navarone è l'attuale capo tra virgolette clan di tutte le varie famiglie criminali di Gotham quindi se trovate Jimmy Navarone lo fate fuori potete prendervi la la sua fetta e da lì poi diventare i capi della città tu e Mosaico gli svela qual è il club dove tra l'altro devono andare dove devono dirigersi per far sì che Jimmy Navarone cada ai loro piedi letteralmente nel frattempo vediamo proprio Jimmy Navarone che è un biondino eccolo qua tipico anche lui camicia bianca sigarone una sorta di kimping magro Jimmy Navarone che sente le voci che qualcuno è sulla sua a caccia di lui non sa che sono Joker e Mosaico però sa che è qualche criminale che vuole fargli la cresta tra l'altro come potete vedere la trappola scatta subito perché in basso vedete legato nel baule della limousine che viene a prendere Navarone c'è il suo vero autista e qualcuno sotto mentite spoglie si finge un nuovo autista per fregare il povero il povero Jimmy intanto le indagini di Microchip che anche lui entra in un database assieme a Damian tra l'altro lui e Damian fanno una sorta di battaglia cercando di rubare ognuno le informazioni dell'altro addirittura Microchip cerca di entrare nel computer della Batcaverna ma Robin riesce a fermarlo tutti scoprono dov'è il posto dove Jimmy Navarone si è diretto e dove molto probabilmente Mosaico e il suo aiutante si stanno dirigendo per poter concludere qualche tipo di affare o letteralmente come abbiamo già scoperto anche noi per uccidere il povero Jimmy Navarone ed è il Toy Box il Toy Box è questa specie di scatola per giocattoli è letteralmente la scatola quella che il giullare che esce dalla scatola quella è una Toy Box quindi tu giri la vanovellina e boing esce fuori il giullare che ti spaventa questo è l'insegna del Toy Box è ovviamente un posto che dal di fuori sembra un club privato come la sauna di prima ma in realtà è solo un club criminale infatti appena arrivato sulla alla soglia del club Frank Castle viene subito beccato e gli viene detto di allontanarsi quando gli si parla davanti e ve lo faccio vedere tac un tizio vestito di bianco con una faccia normale è mosaico mosaico ora non è più orribilmente sfigurato e dice si Joker mi ha ridato una nuova identità ora non mi resta che diventare il vero capo di Gotham City ma prima di tutto ti faccio fuori infatti punta la pistola al povero Frank Castle minacciandole dicendolo questa è l'ultima volta che ci incontriamo nel frattempo sul luogo sta sopraggiungendo Batman lo vedete nell'ultima vignetta Batman arriva anche lui grazie alle indagini di Tim Drake ha scoperto del Toy Box quindi stanno convergendo in un posto Joker mosaico c'è già Batman e Frank Castle pure lui è arrivato quindi insomma un bel quartetto pronto a darsene pronto a a fare fuoco e fiamme e così succede così succede perché il primo diciamo a svelarsi anche se mosaico aveva capito subito che era che era lui è Frank Castle che si strappa il di dosso il il giaccone tira fuori le armi mentre tutti gli uomini dicono vai no spariamo partono e parte questa specie di tibaruffa tra gli uomini tra mosaico su uomini il punitore nel frattempo dall'altra parte del locale c'è Joker che si improvvisa pianista si mette sul palco dice ora una bella canzone chiamata a chi supplica aiuto e la dedichiamo a Jimmy Iettatore un suo modo per scherzarlo per il suo cognome allora Jimmy vuoi cantarla da solo gli dice e Jimmy intuisce che insomma le cose non stanno andando bene infatti guardate questo scontro bellissimo con Joker a figura intera un Joker abbastanza piazzato devo dire bello bello tosto e nella seconda vignetta Navarone che dice Joker perché qua lo conosce ovviamente come vi ho detto tutti si conoscono portatemi il suo sorriso ragazzi e parte la sparatoria quindi ormai siamo tipo ok Corral abbiamo da una parte bellissima doppia vignetta tra l'altro capolavoro di Gior Romita Junior guardate che ve la faccio vedere ok si era già vista ma devo sistemarla metterla leggermente più a destra ah guardate che meraviglia ecco facciamo così centrata super sfida all'Ok Corral gente che si spara gente che si mena vetrate che esplodono Panice che insegue mosaico Batman che si getta sui criminali arrivando dall'alto intanto gettando delle granate fumogene in mezzo all'Aressa doppia vignetta fantastica con il toy box che viene messo a ferrofuoco dagli uomini dagli uomini di Joker e di Navarone non parlami dei toscani ti prego hanno affetto molto italiano Navarone esatto il toy box i locali dovevano avere gli space marine quando non combattono l'imperatore Zurg esatto nomi non casuali nomi non casuali comunque vabbè vi lascio godere un attimo ancora di questa vignetta doppia vignetta stratosferica cioè dire che questi crossover hanno dalla loro il fatto di tirare fuori delle vignette splendide ok ok insomma si menano si menano si sparano ci viene fatto seguire un po' dell'uno un po' dell'altro quindi abbiamo punitore completamente insanguinato che urla fai salire il sangue cavalca l'odio il solo modo per sopravvivere a questa follia è parteciparvi chi è quello straniero alto e armato fino ai denti mi piace dice Joker mentre tra l'altro spara dietro la testa così proprio da da super cowboy dall'altra parte abbiamo Batman molto più zelante nel suo modo di combattere che dice stai calmo usa il buio rabbia e paura mi girano attorno come un'onda travolgente non devo lasciare che mi coinvolgano quindi niente paura niente ansia ma calmo il più possibile come un ninja tipico di Batman e il povero tra l'altro il nostro connazionale si rifugia dietro tra l'altro i dadi del toy box e dice Dio che ho fatto per meritare questo perché ha letteralmente l'inferno davanti a sé di gente che si spara da notare orecchie da pipistrello alte da sole due metri esatto questo era un po' il periodo figlio anche lui degli anni 70 un po' delle super orecchie di Batman quelle lunghissime devo dire che a me piacciono tanto io sono più per il Batman orecchie lunghe che per diciamo quello un po' più classico con le orecchiette corte tipiche comunque anche del cartone animato dei fumetti un po' più moderni ma a me il Batman con ste orecchie che non finivano più mi è sempre piaciuto morti a terra di morti veri ne rimangono ben pochi Punisher e Mosaico restano i soli in piedi dei loro due gruppi dei loro due gruppi ma del gruppo di lotta che si era formato quindi del gruppo di Tony e del gruppo di di Mosaico rimangono in piedi solo Frank e appunto Mosaico Mosaico scappa dietro un bancone per cercare di difendersi perché sa che Punisher è totalmente fuori talmente fuori che infatti attenzione lancia una granata così dietro il bancone che esplode e attenzione fa saltare tutti i punti ovviamente non l'ha preso direttamente in faccia ma lo sbalzo della dell'esplosione ha distrutto tutti i punti di sutura dell'operazione fatta al povero Mosaico e quindi Frank Castle il punitore per la seconda volta è quello che in qualche modo ha creato Mosaico come anche questa seconda esplosione lo rende sfigurato come primo vi lascio immaginare il povero Mosaico come deve sentirsi in questo momento che odio viscerale può provare per per il punitore infatti comincia a sparare l'impazzata comincia a sparare l'impazzata inizia a uccidere tutti tra cui anche il povero Navarone l'italiano americano Navarone fa una brutta fine ecco lo vedete là crivellato in alto a sinistra Mosaico fa un favore al mondo e accoppa Navarone e i suoi compari la sparatoria continua però perché quelli rimasti comunque ancora cercano di uccidere Joker e Punitore Batman e Punitore Batman che d'altro dice quando sarà tutto finito non fare più rivedere la tua faccia a Gotham bella città per una vacanza ma non vorresti che venissi qui vero dice il Punitore ti ho avvisato perché sei venuto qua forse Gotham è troppo grande perché pensi a tutto Batman ci devo pensare io a fermare anche i tuoi criminali e dicendo così insegue Joker in un vicolo insegue Joker mentre Batman affronta Mosaico Mosaico oramai è in preda il delirio cioè veramente impazzito con la faccia sanguinante perché i punti sono tutti saltati io so cosa hai fatto se un capo mafia Gotham era meglio che rimaneva a fare il capo mafia a Gorizia esatto poveraccio infatti guardate Mosaico ovviamente tutto pieno di vetri schegge probabilmente anche del del bancone quando è esploso il Punitore ha lanciato la granata Crivella Batman inizia a sparagli anche lui in pieno petto ormai senza neanche più vederci perché il sangue gli sta coprendo anche gli occhi a momenti lo ha annebbiato e il povero Batman viene crivellato di colpi da Mosaico la scena nel frattempo si sposta si sposta e vediamo che Joker tende un tranello a Punisher gli fa credere di essersi nascosto da qualche parte di andare da una parte perché ci sono le risate del Toy Box che confondono Frank che sente questa risata che pensa di essere del Joker in realtà e del pupazzotto che esce infatti lui subito gli spara pensando di colpire Joker ma Joker spuntando da di lato bam gli dà una bella trambata in faccia insomma tutti che menano in faccia il Punitore vogliono tutti trasformarlo in una sorta di mosaico pure lui questa cosa acceca per un attimo Frank che cade ed ha permesso a Joker di fuggire nel vicolo sottostante sottostante il il club nel frattempo Batman ovviamente aveva un giubbato antiproiettile riesce a rialzarsi dopo che mosaico ha finito di fare il suo monologo io comunque mi hanno tolto tutto dalla vita mi hanno sfigurato io sono cattivo perché voi siete cattivi con me le siete cazzate che dicono i criminali Batman si rialza e pianta un pugno a mosaico letteralmente facendogli sfondare il muro e poi ammanettandolo mosaico rimane lì più morto che vivo forse Batman è stato un po' cattivo stavolta ma non l'ha ucciso però gli ha fatto sfondare il muro con un pugno vuol dire stai giù e non alzarti più e quindi mosaico cade mosaico cade e arriviamo nel vicolo esterno dove tra l'altro succede una cosa molto molto bizzarra perché Joker non accortosi della sporcizia per terra scivola proprio come nelle gag dei film comici di una volta su una buccia di banana cade e dice una buccia di banana questa si che fa ridere tutto felice perché ovviamente ride nella situazione assurda di una buccia di banana che lo ha fatto scivolare il clown caduto da una trappola tipicamente da clown e il punitore lo raggiunge e attenzione altra super splash page che vi faccio vedere davvero bomba ancora John Romita junior ovviamente al massimo queste punitore con le due braccia insanguinate e il volto super cupo e che guarda Joker e gli dice io non sono Batman io non mando ingariare la gente che come te ha fatto crimini di questi tipi di questo tipo e ha ucciso un sacco di persone io ti faccio fuori ma scusamo questo Joker è del mestiere è del mestiere perché ride però è un Joker che è un po' un po' caga sotto un po' meno pazzo sotto quel punto di vista e Meetbuster non sarebbe piaciuta questa scena invece può succedere loro dicono ma si può davvero scivolare su una buccia di banana no Joker ci ha provato che in realtà probabilmente diciamo così è stata la pioggia che l'ha fatto scivolare ma lui ha preferito dare la colpa alla buccia di banana però attenzione prova la paura una cosa che Joker non prova spesso perché come vedete Panish gli punta la pistola sul naso e gli dice io ti ho detto che non sono Batman io adesso ti ammazzo ed è proprio pronto a sparare se nell'ultima vignetta non arrivasse il solito Batman amico della giustizia dell'intrepido difensore di Gotham City che lo ferma e gli dice no anche se Joker non so ci manca solo che vada in un asilo a cospaggiare i bambini di benzina poi ha fatto tutto anche se Joker ha esagerato più volte nella vita noi non siamo nessuno non abbiamo il diritto di togliergli la togli la vita perché noi dobbiamo essere imparziali e ovviamente il punitore gli si incazza si incazza gli dice certo che però quante volte hai fatto arrestare questo psicopatico io sono quello che può mettere fine a questa storia tutte le volte lui viene arrestato e poi se ne va Batman dice solo Joker si scappa se ci tiene alla vita scappa e Joker attenzione ha mutolito smette di sorridere gli rimane un po' un ghignettino sul volto smette di sorridere senza dire una parola se ne va forse questa è una soluzione nel tuo territorio dice Batman ma a Gotham facciamo le cose diversamente ragazzi questa frase di Batman e il fatto di aver fatto scappare Joker fa incazzare totalmente il punitore e per quanto ribadiamo che i metodi di Punisher siano un po' esagerati forse stavolta ha un po' il diritto di incazzarsi e seppur con due bracci insanguinati che probabilmente non riesce neanche a usare non riesce neanche a stringere i pugni da un mega cazzotto sotto la pioggia Batman creando questa immagine super iconica super perché comunque ribadiamo i crossover tra DC e Marvel non è che siano così comuni quindi avere vignette del genere è una perla tra l'altro questo crossover è arrivato nel 94 l'altro era dell'82 che abbiamo letto l'altra volta 83 insomma comunque più di 10 anni erano passati dall'incontro tra Justice League Titan Titans sorry tra X-Men e questo quindi comunque il valore iconico era ancora maggiore perché da anni la gente aspettava di rivedere i due incrociarsi super sganassone Batman ovviamente dice ok sei sfogato un pugno me lo posso anche meritare due no il punitore non gliene frega assolutamente niente sferda un altro pugno un secondo pugno Batman che ovviamente lo prende per la mano lo scaraventa in una serie di bocca sette di legno di scatolone o di rifiuti che c'erano lì nel vicolo e dice non mi provocare ti ho detto che un pugno me lo puoi dare due no perché lì diventi colpevole tu e non posso essere colpevole io quindi finiamola qui non mi provocare finiamola se torni qui gli dice Batman ti faccio rinchiudere in una cella Blackgate con gli altri assassini quindi dovrai condividere celle con altri assassini consapevoli di non potergli fare nulla e anzi se farei qualcosa di troppo gli assassini probabilmente te menano o forse addirittura dice potrai anche mandarti a Arkham che comunque è il posto dove ci sono i pazzi perché tu secondo me assieme ai pazzi ci staresti pure bene mosaico nel frattempo come dice Frank Castle tornerà a casa quindi io posso aspettare di avere la mia vendetta sarà un piacere tornare nella giungla che conosco dice perché New York per quanto forse più più incasinata di Gotham un po' più vecchio stile insomma è facile da approcciare per uno come Frank Castle almeno lì comunque è una giungla che Frank Castle conosce New York dice sarà una fogna ma meno la mia fogna le cose hanno un senso là odio Gotham e la storia finisce con questo Frank che dopo essere stato minacciato da Batman che torna a prendere mosaico a portarlo in gattabuia a Gotham finché non lo trasferiranno probabilmente a New York questo punitore che se ne va così nella pioggia c'è un bello zoom meraviglioso eccolo lì un odio Gotham sotto la pioggia e sotto le luci sfumate di questa Gotham crepuscolare Batman amico delle guardie Greca mi ha battuto sul tempo sì sì assolutamente assolutamente e si conclude così in questa nota amara l'incontro tra Batman e punitore un incontro che ci ha fatto vedere un Joker secondo me bellissimo tranne forse per lo scivolone finale un po' davvero da scemo un Joker cattivo un Joker così insomma molto molto più criminale che clown sul fronte della Marvel mosaico non fa moltissimo è interessante questa cosa che di fatto tenti di andarsene di ricrearsi una vita con una nuova faccia un nuovo territorio criminale ma arrivi il punitore a fermarlo rovinargli la vita la seconda volta e ritrasformandolo in mosaico letteralmente per la seconda volta però diciamo che dei due forse Joker era quello più interessante non ci viene detto tra l'altro nulla sul cioè Batman dice che ha contattato l'autorità per far sistemare l'acquedotto quindi non ci viene detto effettivamente cosa è successo in questi mesi a livello di acquedotto inquinato ma ci viene da da immaginare che insomma le cose siano siano andate bene ma soprattutto abbiamo un Frank Castle meraviglioso che ci dice che lui preferisce la sua fogna e che odia Gotham odia Gotham interessante il fatto che la storia si dipane in due momenti diversi della DC quindi abbiamo prima un Batman prima abbiamo un Batman come si dice più più cattivo più pazzo più simile perché è diversa il punitore Azrael e poi abbiamo la seconda controparte quella di Bruce Wayne quella un po' più più pura quella più il Batman che conosciamo il Batman che pensa prima alla giustizia che alla vendetta si conclude così quindi anche questa quinta puntata di Marvel vs DC attenzione la prossima settimana sempre di domenica avremo la sesta puntata con un ritorno spaziale perché avremo Galactus attenzione Galactus che affamato deciderà di andare nel mondo della DC a mangiarsi un pianeta e che pianeta vuole mangiare vuole mangiare Apocalypse la storia ambientata nel passato della DC quando Apocalypse c'era ancora quindi non c'è il Darkseid che abbiamo già visto nella vecchia puntata che tanto era finito intrappolato nel muro ma avremo quel Darkseid di quell'epoca che dovrà letteralmente impedire a Galactus di mangiargli la casa con una storia bellissima che si chiama The Hunger la fame disegnata e scritta da John Byrne un dio del fumetto americano quindi insomma settimana prossima si torna nello spazio con The Hunger e poi poi ci avvicineremo pericolosamente al prologo di quella che sarà il vero scontro tra universi cioè Marvel contro DC piano piano ci stiamo arrivando ne vale la pena farle una dopo l'altra piano piano in ordine cronologico per arrivare poi pronti al vero scontro tra due case editrici tra Marvel e DC per vedere chi vincerà delle due e lì sarà bello perché faremo anche dei sondaggi faremo anche delle scommesse il povero Zavarone è bello che è andato rip best PG sì Zavarone con nazionale mano sul cuore ucciso così crivellato dai colpi come un poverato di un mosaico impazzito ciao Greca grazie per essere passato grazie per l'abbonamento stavolta grazie davvero visto che anche Twitch ha deciso di ringraziarti io diciamo che sì vi saluto vi saluto grazie per l'abbonamento